Il gol è stato negato, un'incredibile parata Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla, gran bella parata Bella palla, ad allargare il gioco La gara, hanno conquistato il titolo dopo una stagione lunga, ricca di insidie Sono stati bravi, sono riusciti a portarsi a casa il campionato per la gioia di allinatori e tifosi E alla fine possono indossare la corona dei campioni Si sono dimostrati la migliore squadra nel corso di una difficile stagione E ora possono giustamente festeggiare una vittoria assolutamente meritabile Una vittoria assolutamente meritabile Aquilani Prova la giocata nello spazio Vede l'inserimento del compagno C'è spazio, occhio! Occhio alla conclusione Molto buono il dribbling, tiro rivedibile È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da posizione molto defilata Questo è proprio un giocatore che vede la porta Dign Kovacic Dign Kovacic Suso Una conclusione straordinaria Questo è un po' stupendo Stupendo Sanì Abate Sanì Balla al centro Gran colpo di testa Carlo Spacca Grande giocata Due gol in pochi minuti Grandissimo approccio alla gara Ha impattato benissimo di testa Il gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità Intercetta opportunamente Visto che l'azione era pericolosa Cerca il cross in mezzo E ora deve concludere Tentativo verso la porta Palla dentro C'è il gol Ha finalizzato alla perfezione questo uno contro uno Profondità José Jiménez Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione Colpisce Nulla da fare per il portiere Un gol bellissimo Un tiro eccezionale Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita E' la parola A' un lavoro Sì C'è 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.